buongiorno signor valerio ecco il kit luci ambiente che ha ordinato presso il nostro e-commerce adesso oggi spediamo gestione colori intensità ed effetti tramite app smartphone adesso un attimo riaccendo la luce il kit è composto da sei punti luce come vede ovviamente poi qui ci sono tutte le strisce ambient in fibra dove potrà collegarle fare ad esempio sportelli cruscotto oppure potrà eseguirli solo come punto luce potrà fare maniglie tasche sportelli tappetini insomma queste poi sono decisioni prenderà lei una volta arrivato il kit questa è tutta la fibra io rimango a disposizione una volta che sta per eseguire la lavorazione se ha bisogno di qualche assistenza mi può contattare oggi spedisco e le invierò la tracciabilità grazie mille 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 Grazie a tutti.